Prima risposte per i cittadini di Ogiara dopo la sparatoria di lunedì pomeriggio i residenti delle zone collinari di Salerno avevano chiesto più sicurezza al comune e al questore Anzalone. Quest'ultimo ha assicurato più attenzione alle frazioni alte mentre proseguono le indagini a tappeto da parte degli agenti della squadra mobile guidati dal dottore De Salvo per arrivare agli autori della sparatoria. Venerdì sera poi era stata organizzata dal comitato di cittadini una riunione al circolo Santa Maria di Ogiara, evento che è stato rinviato dopo le rassicurazioni giunte sia dal sindaco facente funzioni Napoli che dalle forze di polizia. L'assemblea popolare si terrà probabilmente la settimana prossima. Il referente del comitato città colinare Leonardo Gallo chiede però a nome dei residenti di Ogiara e di altre frazioni alte di Salerno sempre maggiore presenza di polizia municipale, un potenziamento dell'illuminazione notturna, un sistema di telecamera a circuito chiuso in stretto contatto con la questura, oltre a un potenziamento della vigilanza diurna e notturna. La sparatoria secondo i cittadini di Ogiara è stata soltanto l'ultima goccia che ha fatto traboccare un vaso già pieno. Infatti è da mesi dicono che continuano i furti nelle abitazioni, gli scippi con una sempre minore vivibilità e un senso generale di paura nelle persone. Secondo gli abitanti di Ogiara la sparatoria dell'altro giorno è la conclusione di una resa dei conti tra bande criminali che nel tempo si sono radicate in quella fetta di città, spartendosi zone per lo spaccio di droga e addirittura dividendosi i compiti per i blitz da effettuare in attività commerciali o nelle abitazioni private. Vincenzo Napoli ha già organizzato un incontro del Comitato per la pubblica sicurezza, così come sta lavorando, per contrastare il fenomeno dei furti e degli abusivismi. Proprio di ieri, dopo i furti messi a segno nel cimitero comunale, la notizia della prossima installazione di un sistema di videosorveglianza.